24 Lavorano tutto il giorno Non hanno più una vita privata Dalle 7 del mattino si imbottiscono di caffè E vanno avanti fino a luna di notte Discovery Channel per la serie Lavori Estremi presenta Conduttori di Sky Sport 24 Il primo reality dedicato ai conduttori di Sky Sport 24 Tutto sulla triste esistenza di un manipolo di coraggiosi giornalisti Costretti a stare rinchiusi 24 ore su 24 in uno studio A ripetere sempre le stesse notizie Senza nessuno svago Senza nemmeno poter picchiare in diretta a Posa e Franchini del wrestling Senti Znegata, mettiamo le cose in chiaro Znegata Se non stesse scrivendo alcuni messaggini con il telefonino Manco fosse Tiger Bulls Luca Franchini, beccato in diretta E senza poter scoppiare a ridere per i collegamenti di Gambini dalla Sisa Conduttori di Sky Sport 24 Arriva finalmente il reality che risponderà alle domande che vi siete sempre posti Ma che non avete mai osato fare Se davvero fanno i turni Com'è che quando accendi c'è sempre l'IHP? Davide Camiccioli è davvero così grosso? O più semplicemente ha il push up come tutte le sue colleghe? Buono, mi piace molto Credi piace molto È vero che siccome non possono mai uscire dallo studio Chiedono a Nebuloni di fargli la spesa? Conduttori di Sky Sport 24 E se sei un avvocato divorzista e vuoi farti un sacco di soldi Chiama Sky e ti daremo il numero dei conduttori di Sky Sport Che tanto quelli prima o poi divorziano tutti per abbandono del tetto coniugato Conduttori di Sky Sport 24 È un'esclusiva Sky